Il direttore generale dell'AMAM Luigi Larose è sconsolato. Da domani tutta la città rischia di restare senza acqua. Già adesso siamo in fase di fortissima riduzione a mare. Il commento del dirigente dell'azienda meridionale Acque a causa della rottura della tubazione all'acquedotto Buffardo a Calatabiano si tratta dell'erogazione idrica fornita dal fiume freddo che arriva a Messina e che serve gran parte del territorio cittadino, quasi tutto. La situazione critica ha affermato oggi pomeriggio Larosa. Da domani tutta la città potrebbe essere priva di acqua in attesa della riparazione. Ma non sembra che i tempi siano molto rapidi. I tecnici dell'azienda si sono portati sul posto per verificare da vicino cosa sia successo. Sulle cause che hanno provocato i danni dopo il nubifraggio che ha sconvolto la provincia catanese nei giorni scorsi non ci sono certezze. Si parla di un incidente ma anche di un possibile sabotaggio. Su questo stanno indagando i carabinieri dopo che è stata scoperta la rottura intorno alle 10 che ha riversato una quantità smisurata di acqua e ha letteralmente inondato con un fiume di fango e detriti il quartiere Manganelli a Calatabbiano. Il fiume freddo serve Messina con mille litri di acqua al secondo contro la ben più ridotta portata della Santissima. Gli edifici che non sono in possesso e di serbatoi saranno i più penalizzati e coloro che per primi si ritroveranno con i rubinetti a secco. Non possiamo al momento dare ulteriori indicazioni, ha concluso la rosa, di certo c'è che le riduzioni idriche sono già in corso e che domani tutta Messina rischia di restare senza acqua.